Buonasera, appena ascoltato, Budapest è qua in Sud Italia, provincia di Cosenza, operatore Pino, cambio per te. Budapest, senti Bruno in Sud Italia, cambio. Bruno, Bruno, Sud dell'Italia, Bruno, Sud dell'Italia, 7-8, 7-8, Radio 5, Budapest, ciao. Ciao, Budapest, Bruno, Sud dell'Italia, Cocchi Centro Italia, Budapest, Bruno, espresso 48, provincia di Poteca. Cambio. Ok, stazione Bruno, Bruno, espresso, Bruno, espresso, 7-8, 7-8, Radio 5, Budapest, ciao, buona fortuna. Ciao, Budapest, buona domenica, buon weekend, Bruno, espresso 48, provincia di Poteca. Grazie, grazie, Bruno, espresso, buon weekend, buon weekend, ciao, grazie, Emilia. ciao